si svegli mister freeman si svegli non che voglia insinuare che lei abbia dormito sul lavoro nessuno merita riposo più di lei ma tutti gli sforzi del mondo risulterebbero vani finché diciamo solo che è di nuovo giunto il suo momento perciò si svegli mister freeman apra gli occhi e si svegli assistenza energetica movimento attivato 100% attivata monitorizzazione segnali vitali sistemi medici automatici attivati grazie 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 grazie